ma mi interrompe mentre parlo luca momblano stefano goitre il ritorno di katia nicotra katia come stai ragazzi siamo sempre qua in diretta ma questa la mettiamo su tutte le piattaforme sono circa 50 ore che siamo in diretta noi intanto facciamo finta di salutare rivediamo le esultanze di luca i gol è vero esatto è tanto tempo che non vediamo le esultanze di luca allora ragazzi stefano goitre e katia nicotra oltre a essere due amici storici di juventibus hanno un'altra cosa e essere tifosi bianconeri e essere presenti come luca qua hanno un'altra cosa in avete un alibi ragazzi dove eravate ieri sera stefano io a pochi metri da da casa mia perché ho la fortuna sfortuna di abitare a milano e a san siro e come katia anch'io avevo un accompagnatore che era mio figlio che andava per la prima volta a san siro ed ero molto preoccupato perché non era proprio la partita ideale all'esordio in realtà l'esordio è stato con la nazionale ma noi sappiamo che quella non conta quella non è niente katia e ci raccontavi prima ci accennavi poi ti ho bloccato detto ne parliamo dopo che fai tu chi porti e dimmi le due 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 settimane fa mio papà mi chiama come se fosse la cosa più semplice del mondo e mi dice io il 27 voglio essere a milano e voglio essere a san siro panico ragazzi giuro panico sono sold out da tantissimo tempo ma stai scherzando ci sono miliardi di partite poi san siro ci sono tantamila persone cioè è una cassa di risonanza forte però come fai a scontentare tuo padre io ho detto ma io piuttosto veramente muoverò il mondo ma io li troverò questi biglietti e li ho trovati e li ho trovati come li hai trovati a questo punto vogliamo sapere come li ha trovati li ho pagati perché comunque queste sono partite che sono biglietti introvabili anzi se lo posso fare pubblicamente ringrazio anche una persona che li ha trovati perché nonostante li ho pagati no perché tra l'altro me li ha trovati un dipendente dell'inter ho scoperto non so se voi lo sapevate io dopo tanti anni che è basico del mondo del calcio non lo sapevo che a un certo punto si apre poi il sito dei biglietti per i dipendenti dell'inter che li vedono solo e soltanto loro quindi mi sono dovuta affidare un interista per poter avere in tribuna quindi sono pure riuscito ad avere un primo anello eh mica nulla scusami Katia ma ti chiedono in tanti avevi già provato con Simone Inzaghi per i biglietti oppure oppure no no ho preferito andare per altre vie ragazzi per altre vie per altre vie ragazzi allora allora in Sicilia la diciamo brutta cosa sai come si dice in Sicilia paga e schifa e cioè cioè nel senso non devi chiedere niente a nessuno certo mi è servito l'aggancio nel senso per poterli avere perché se non avessi avuto quest'aggancio non li avrei trovati perché veramente quella è la partita più vista in assoluto nel mondo si muove veramente un esercito di gente che arriva imprenditore jet privati cioè politica è veramente una roba imbarazzante per tante cose quindi trovare biglietti a meno che appunto si chiedono a qualcuno in particolare non era la cosa più semplice non era più semplice soprattutto se tu sei ioventina e tanti lo sanno ancora peggio è ancora ora c'era questa non l'ho capita è indipendente mi capita io tra l'altro ho un po' anche terrorizzato mio papà nel senso tu sei un grande tifoso però noi siamo assoluti non siamo la gente della Juve sì ci riconosciamo non siamo a casa nostra cioè noi siamo in mezzo agli interisti e tu non devi commentare io ho detto per nessuna ragione guarda in silenzio poi vi dirò una cosa in realtà quella che ha avuto poco controllo e non me l'aspettavo sono stata io tanto è vero una nicotra segreta ragazzi e no allora segreta non è tanto segreta è che naturalmente io ste robe come la reaction che mi chiedono da sempre non la farò mai perché io non sono così equilibrata poi quando devo esultare cioè sono abbastanza tifosa quindi io che avevo terrorizzato mio papà che io ho detto mi raccomando niente sciarpa niente cappellino niente di niente tu ti devi devi essere camaleontico ci dobbiamo confondere poi arrivo io vestita tutta in bianco nero che al primo gol di blau e ci fa un'esultanza esagerata mio papà era assolutamente terrorizzata che a un certo punto mi dice ti prego no non esultare quindi è il contrario cioè era lui che era lui e non io esatto alla fine eri tu l'irresponsabile stefano il primo gol tu e tuo figlio no io totalmente identico proprio tutto quello che eri toccati alla stessa identica cosa non facciamoci riconoscere stiamo schiscere poi ti siedi comincia a vedere quelli di fianco capito quelli che non sono non hanno nulla potrebbero essere poi vediamo la prima azione primo gol il terzo e il quarto eravamo due bestie i primi due i primi due uno dietro l'altro esatto il primo il primo ti muovi un po secondo ti alzi leggermente al terzo salto su al quarto ci avevo cambiasso e cambiasso e galante dietro è proprio oggi girato quello vero quello vero sì 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 e lì proprio poi hanno iniziato a scimmare nove anni nove anni quindi gli sto dando un'educazione di quelle giuste c'è proprio le sceneggiate allo stadio poi siamo usciti era pieno di juventini ragazzi beh sì devo dire di no al di là del settore no al di là del settore invece noi dovevamo mimetizzarci no però lo capisci come ha detto stefano implicata anche l'ingresso perché paradossalmente appunto arrivo lì che c'era veramente tantissima tantissima gente sapete che quando poi arrivano i tifosi della juve chiudono tutto quindi arrivo io vestita tutto in bianco nero con tutti questi tifosi alcuni ultra che arrivavano e bloccano tutto io guardo quello tipo la prego e infatti questi qua erano mio padre subito chiuditi la giacca dice almeno non si vede sotto che c'è la gente non si vede che se bianco nera è stato tutto molto forte però come vi dicevo alla fine per come si è conclusa la partita è andata bene perché ha permesso loro di uscire io non ho mai visto in una partita del genere la calma che c'è stata lì che assanziva proprio tutti zitti ma erano mutoliti ragazzi erano erano un po' mutoliti sembrava dopo il parigi non si aspettavano c'è secondo me erano terrorizzati gli ultimi dieci minuti erano quelli di fianco a me perlomeno erano bianchi di paura non ci fosse stato signor guida probabilmente uscivano anche tra le gambe un paio di ripartenze vabbè pesco un po' nel mazzo è poi l'unica cosa però io ho avuto proprio questa percezione qua perlomeno nella mia zona forse era la stessa dove più o meno dove dove c'è cioè partiti spavaldi gli ultimi dieci io ero bello spaparanzato perché andavano via e li vedevo che avevano la paura la percezione che la potevi vincere però ci sono state davvero tanti momenti tantissime emozioni infatti quello che vi volevo dire all'inizio è stato cioè molti hanno parlato poi ho visto un pochino di commenti in giro hanno parlato di questa partita spettacolare io su sta roba ho un appunto nel senso non è che non fosse spettacolare però la partita a mio avviso può essere definita spettacolare se tu te la stai guardando non da tifoso ma sei uno spettatore quindi tu da casa ti guardi questo match che la gran parte delle persone si aspettavano un match non ti dico noioso però sicuramente non così ricco di gol e non così ricco di capovolgimenti ma tu che la vivi in prima persona e sei tifoso ti assicuro che quel momento di spettacolare non ci vedi proprio nulla perché è una sofferenza vera e propria quando noi abbiamo preso il terzo gol ma ancora prima di prendere il terzo gol ti assicuro che la squadra era completamente smarrita era spaventatissima e non riusciva a rialzarsi una cosa che invece voglio chiedere a luca ma anche a te non dico a stefano perché secondo me questa la cosa che vi voglio chiedere noi dallo stadio abbiamo un'altra percezione io gli ho fatto un commento su una follia di locatelli ho visto che la gente non l'ha capito perché mattina non scritta perché calulu secondo me da casa perché poi le partite viste dallo stadio e le partite viste da casa anche per una questione non solo emozionale ma proprio di inquadrature sono completamente diverse noi dopo aver fatto eh i due gol molto vicini a distanza di cinque sei minuti quindi che tutto sembrava essere sulla strada giusta quindi con una Juve che aveva veramente preso coraggio ed era veramente piena in piena facoltà di tutto quello che stava accadendo c'è stato questo chiamiamolo retropassaggio appoggio di Locatelli che è arrivato che stava praticamente facendo un autogol da lì non so come l'avete visto quella palla tu riferisci così tutti ricordano la palla che di Gregorio deve inseguire esatto ah è vero me l'ero scordata la palla che deve inseguire all'indietro perché Locatelli tira controbalzo all'indietro in direzione specchio che non si fa anche se tu la dai la cieca all'indietro ormai in direzione specchio ma colpisce un po' più forte di quello che pensava di Gregorio l'ha spostato esatto ma l'ho vista talmente bene che ho detto oddio ma queste folle di Gregorio ha cominciato a correre e vi assicuro che non è andata dentro solo per un pelo perché era fortunatamente avuti e depotenziata nella velocità quella palla e da lì sì e da lì cosa è successo per questo io ho fatto riferimento alla follia di Locatelli non di Calullo perché da lì si è inanellato una serie di errori grossolani che non ci abbiamo più capito nulla però visto che nessuno sta roba l'ha accolta ho pensato dico vuol dire che da casa per una questione di posizionamento di camere non si è vista per come l'abbiamo vista noi dal campo la percezione è perché io quando ho visto quella cosa c'è no ma sì esatto devo dire allora allora l'espressione di me queste folle perché non così tanto secondo me Katia non così tanto però in tutti non c'è essere umano tifoso della juve che non abbia richiamato qualche qualche dio in cui crede o qualcosa del genere nei secondi interminabili in cui di Gregorio in cui cioè cercavo di capire se l'avrebbe presa normalmente oppure no ma abbiamo capito subito che era una mezza follia la partita io oggi non ho avuto tempo e l'andrò a rivedere perché veramente da lì si sono susseguiti una serie non che prima non ci fossero stati ma da lì è come se la juve avesse avuto un blackout totale hanno cominciato a fare degli errori incredibili cioè incredibili luca ragazzi la palla in diagonale di Locatelli è davvero bella una delle poche palle che ha giocato in avanti è una palla in una situazione diciamo di nuovo di come dire di piega della partita nuova abbiamo appena segnato il 4 a 3 anzi c'è stata già l'occasione di dizze del 4 pali se non ricordo male prima ma qua Locatelli da una palla che non non osa mai dare però contiago devi osare ma la per me per me lo stop di cabal e la conduzione in quel momento della partita per un giocatore acerbo come lui che è lì che gioca e va in uno slancio centrale perché lo vuole il mister e fa quel controllo e guida palla testa alta rompe la linea la palla di Locatelli è bella ma cabal fa un capolavoro perché sembra un veterano cioè sembra un ingresso dentro che fa un giocatore l'esterno sinistro è real madrid cioè che ha quella tranquillità che intorno a lui funziona tutto e ha la tranquillità che tanto è real madrid per cui la partita non la perderà però è cabal quando il cabal che fino a dieci giorni fa avevamo smarrito alla terza giornata grandissima secondo me Locatelli ma super cabal in quella giocatore allora allora comunque sì sì ora l'abbiamo ricordato forse Katia il punto è anche che dopo otto gol e cinquanta emozioni una cosa del genere passa il secondo piano ma se no secondo me lì per lì ripeto tutti hanno pensato ma come si è vista in tv io ti giuro non ho ancora avuto modo di vedere come è stata percepita proprio a livello no no si è visto che era forte si è visto che era forte ma dicevamo non può però accadere quello che pensiamo possa accadere subito no diciamo questo quando la palla io ce l'ho non l'ho rivista però la racconto attraverso lo schermo il flash che ho io è esce la palla all'indietro di Locatelli che colpisce forte ma l'inquadratura non non per noi non ci fa vedere la posizione di Gregorio per cui io io quando parte il retropassaggio che comunque è da centro capo penso non mi spavento perché penso che di Gregorio è sul dischetto no invece poi quando l'inquadratura si sposta e di Gregorio è nell'angolo alto dello schermo lassù dico e lì che è nato il panico ma subito no mentre magari allo stadio sì perché tu hai visto dove di Gregorio tutta un'altra parte anche perché poi comunque dirò un'ovvietà come sempre quando sei allo stadio alcune cose ti sembrano terrificanti e magari da casa no e l'opposto ad esempio io quando ci hanno iniziato a prendere a pallate il colpo di una palla che è uscita loro non mi ricordo se l'autaro qualcuno io le vedevo dall'altra parte quella di testa distrutto però esatto stacca da solo noi d'accordo ragazzi io non lo so se Gatti è meglio di Danilo o posso avere un pensiero però ragazzi Gatti di testa le piglia tutte e se noi non abbiamo Gatti con questa squadra di testa abbiamo problemi su tutte le palle ferie Luca Luca andiamo un attimo no no l'ho interrotto scusa no 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 solo considerazioni su come cambia la percezione dallo stadio alla televisione su diversi momenti della partita che allora allora ragazzi dobbiamo andare uno torniamo anche sulle emozioni di ieri l'altalena di emozioni 4 a 2 era finita temiamo il 5 a 2 tanti dicono hanno scritto sull'1 a 2 invece potevamo fare più noi l'1 a 3 che loro il 2 a 2 ed è vero eh fa una grande giocata miglietariana per questo io batto nel senso dopo noi aver fatto il 2 a 2 succede sta roba sciagurata che non so per quale motivo va in blackout tutto ci spaventa un po no eh sì è come se si fossero anche distratti hai un calo di tensione cioè che lui ha fatto un errore veramente grossolano eh si 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 i due rigori sono i due rigori ragazzi ragazzi se tu se noi regaliamo un rigore a partita non dico due ma un rigore a partita così noi vinceremo poche eh non è che si possa bene nonostante eh ha fatto bene fino a questo momento almeno dal campo McKennie mi è sembrato non ti è piaciuto mi è sembrato molto appesantito Luca Luca gli ha dato un 7 io ne vogliamo rivedere Stefano Stefano come è la dico eh le tue le pagelle di Luca almeno per quel poco che si può capire ma siccome Luca è vivente magari ce ne può anche spiegare e interpretare eh con la presenza ma si è visto quello era palese cioè Danilo è chi? No vabbè Danilo è Luca la mia domanda era le spiegazioni che ha dato non so Mattiavo no facci postare a livello teorico cioè nella teoria effettivamente così perché a livello di tecnica è sicuramente molto più fine ha il piede più delicato eh ho educato diciamo Danilo però nella pratica io non so cosa è successo a Danilo ragazzi è irriconoscibile è un po' un po' l'età un po' ce lo diceva mister campagna gli risulta che non si è arrivato in grandissimo spolvero dalle ferie post Sud America e ci abbia messo un po' a rientrare intanto questo ricordatevelo è sempre il modo migliore poi su ogni piattaforma ma qui in particolare ragazzi abbonatevi oggi qualcuno si è lamentato c'era la pubblicità c'era la pubblicità abbonati fratello regalateli fate diffondete allora ricordiamo che tra l'altro se abbonate con i tre quattro caffè al mese ovviamente super ma c'è sempre l'opzione che è super valida di abbonarsi gratuitamente se avete un account Amazon Prime associato al vostro profilo Prime a Twitch Gaming no non va detto ogni volta sta cosa vabbè è uguale non ti preoccupare 50.000 views questo video ascolta un attimo ma qui prima di andare io non ho capito nulla di queste pagelle ne ho capite 4 su 15 di questi voti dimmi Luca non ho capito QB non ho capito perché di Gregorio 7 più o meno invece di dargli un 7 forse per quello allora forse Luca gli dà un 7 più ma ci mette un meno per le uscite io su Danilo prima di scendere nel voto partita stavo ascoltando in assoluto ho sentito la spiegazione che ha dato Tiago sul fatto che ovviamente Danilo e Gatti sono profili anche al 100% anche entrambi al 70% per lui complementari cioè totalmente diversi però io tutta questa impostazione di Danilo nella storia non me la ricordo cioè detto che ha dei piedi da ex laterale sicuramente un attimo un attimo più flessibili rispetto a quelli di Gatti ma io devo dire che non registro nell'ultimo anno e mezzo un movimento un movimento palla di Danilo migliore di quello di Gatti cioè non è mai non ha mai rubato gli occhi per l'impostazione forse due mesi nell'anno di Pirlo quando fu schierato davanti alla difesa ma è veramente un'era geologica fa quindi anche lì mi sembra molto più come dire l'identificazione di un profilo come se tu lo facessi per football manager ma nel concreto quando Danilo è imposta così meglio di Gatti che anzi è un giocatore che secondo me negli ultimi mesi è cresciuto tanto da quel punto di vista. Ma Mixio che dice che lui è appena rinnovato dice ma non sono una donna quindi a Zampini gliene frega il giusto. Ciccetto io leggo tutti i nomi di chi rinnova non capisco dei vostri nick né se siete uomini donne uomini donne esseri umani animali non so cosa siate perché i vostri nick non li capisco compreso Mixio 74. Eh? Lui è un mix. Mi sembra di fare complimenti a Zampini se volete essere letti. Bravo quello è sempre l'inizio sempre l'inizio che funziona. Vedo che ricordi bene. Allora ragazzi bravo Mixio vai all'attacco sempre. Matt Pasquini stasera Juventus Bore 22 e 30. Vediamo se ci tenete svegli stasera eh ragazzi. Grinta ragazzi Matt stasera vogliamo Juventus Boscatenato. Eh mettetela in ghiaccio ragazzi sta sta partita mi raccomando stasera alle 22 e 30. Allora ragazzi io non ho capito tante cose. QB eh eh Luca qualcuno ha detto prima quante bestemmie. QB cos'è Danilo esattamente QB? Quanto basta? quante bestemmie. Qual è? No è quanto basta. Cioè niente. Cioè cosa avete pensato all'ufficialità di qualcosa che era nell'aria gioca Danilo Nongatti succederà questo. Quanto basta proprio la giusta dose di Danilo. Quasi bollito. E poi devo dire che la la situazione gemella rispetto alla gara con lo stoccarda di Danilo è nella costa nel costante peggiorare nel corso dei minuti della partita. Cioè lui i primi dieci ti sembra che possa essere inquadrato. Dal decimo al ventesimo e c'è il primo grande errore. In questo caso tra l'altro ci porta sotto. Non era successo nulla di significativo che potesse pensare di poter partire in svantaggio. E poi però a prescindere da tutto. Lui coi minuti va in sempre progressiva difficoltà. È successo anche martedì fino al rosso. Era gli ultimi quattro. Ogni minuto che passava la combinava più grossa. Quindi è una difficoltà è una difficoltà molto cioè assolutamente palese. Lo diceva Katia che era allo stadio e noi lo vedevamo dallo schermo. Che poi Luca dopo quattro cinque minuti frana subito mi sembra su Turam in un modo. Sì su Turam. L'ha fatto l'eserrore che aveva fatto con lo stoccarda. L'ha sul rigore. No no tu dici sul rigore. Sempre ci dice addirittura prima fa subito un fallo perché Turam gli va via. La prima volta che arriva a palla Turam lui gli casca addosso una roba. Quando hai letto la formazione. Sempre quando hai letto la formazione. Hai detto piccolo mio. Magari oggi non andiamo allo stadio. No. Magari usciamo prima a mangiarci la salamella. Prendiamola così come una gita per vedere San Siro. Quando hai letto le formazioni hai detto papà guarda che Milano è così bella. Ti la vorrei mostrare un po' di più. Lasciamo perdere. Allora io mi sentivo un pareggio. E devo dire che anche mio papà si sentiva la stessa cosa. Facile facile dirlo ora. Avremmo dovuto vedere sul 4 a 2 mentre ti bucavano a tutti i pitch. Secondo me è un pareggio scritto. Certo mi aspettavo una partita meno roboante a livello di gol anche perché io onestamente non ricordo delle partite tra Inter e Juventus negli ultimi anni con tutti questi gol. Cioè cinque gol nel primo tempo dove li abbiamo non visto. C'è il famoso 2 a 3. C'erano solo il 2 a 3 e là c'erano. Katia avevi previsto i quattro pari tu è vero? No 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 no. Io pensavo un pareggio però vi dico la verità. La mia preoccupazione era regalare. Volevo che mio papà avesse veramente un'esperienza positiva. Cioè di tutto il pacchetto. Super top. Prego. Cioè nel senso speriamo che finisce. Tant'è vero che il compromesso con mio papà è stato. E tuo papà secondo me è un pareggio. Anche lui concordava. Gli ho detto l'importante è che fanno una buona prestazione. Se poi dovessimo perdere l'importante è che si sono impegnati e hanno avuto coraggio. questo ti deve bastare. Posso permettermi di dire che hai visto e tuo papà ha visto dal dal nostro punto di vista. Poi se volete giudichiamo anche gli altri. Ha visto quattro bei gol. Beh bravi no? Siamo tutti belli. No possiamo giudicare il coefficiente di compartecipazione dell'Inter ma mi interessa il giusto. L'ha fatto quattro bei gol. Sono quattro bei gol. Anche i gol di Ildiz che poco fa parlava Stefano. Devo dire che a un certo punto anche i miei vicini che erano tutti interisti hanno applaudito. Ha detto caspita che gol. Cioè perché sono stati dei gol talmente belli che anche poi. Faccio sondaggio. Eh? Faccio sondaggio. Gol esteticamente più bello. Sceglietelo. Adesso vi metto tutto. Vai. Allora fammi ricordare. Allora il primo aspetta il primo è Cabal McKennie Blauvic. Il secondo è con Seisau che va via e la dà a UEA. Il terzo è il Diz che si fa il 50 metri. Il quarto è una bellissima azione. Il primo di Ildiz. Secondo noi il primo di Ildiz. Anche loro hanno applaudito. Caspita che gol ha fatto. Gli interisti ve lo giuro. Non ci credo neanche. Erano giuventini Katia. Erano giuventini. No ragazzi vi giuro. Katia erano giuventini. È il momento di dirtelo. Erano giuventini. Secondo me secondo me sono veramente quattro gol splendidi. Quattro gol dove in ogni gol c'è qualcosa di meraviglioso. Però nel primo ragazzi ci sono due cose geniali. Che Cabal. Lo so che non si chiama Zico. Ma Cabal fa una cosa geniale. McKennie è là a quattro metri dalla porta. Tutto il mondo tirerebbe. Lui tranquillo vede Blauvic. Gli dà quel pallone. Poi Blauvic è bravissimo a segnare. Ma per me le cose che fanno Cabal e McKennie. Ma perché c'è sta cosa nera che non vediamo? Non ho capito cos'è questo. Ah ecco. Qua io mi prendo il primo. Blauvic. Secondo il Tevez. E lì sì il Tevez. Tu voti Blauvic? Io voto Blauvic sì. Nonostante quello di Blauvic mi ha emozionato perché era il primo. Quindi ho saputo contenere l'ho insultato con una matta. Però a livello proprio di gol, di estetica, quello di Ildiz è stata tanta roba. Ma anche perché poi... Stefano che voti? Io ho il primo di Ildiz anch'io. Per tanti motivi. Se la porta avanti col tacco. Arriva lì e quando... l'uscita, l'uscita da dietro. Eravamo... Sei andato a riprescare il JV Zona. Noi eravamo in difficoltà in basso a destra sulla bandierina con otto uomini dell'Inter lì. E c'è una combinazione. Noi andiamo... Ildiz fa... Fa tutto quello che serve fare a metà campo in poi. Ma noi passiamo da quattro giocatori prima. Tutto di prima. Sì. E poi lì ti aspetti. Adesso cosa fa? Rientra la passare. Invece tira... Com'è che l'ha chiamata Repi? C'è un diagonale mortifero. Bellissimo. Un termine stupendo. Stupendo. 7% l'ultimo è il gol di Ildiz. Quattro pari. Guardate ragazzi che là perché c'è la deviazioncina finale sul gol che magari lo rende meno fuori. Però ragazzi l'azione l'abbiamo ricostruita. È Locatelli che la dà a Cabal. Cabal con sicurezza, lo diceva Luca Prima. Che va, si incune a centrale tranquillo. Cambiaso che allarga. Con Seisau che mette quel pallone bello. Perché ci sono due mezze deviazioni ma se no... E' parlando del quattro pari? Sì, esatto. Dufris sbaglia. Regala palla alla Juve che sale adesso con poche energie. Gatti chiama in avanti gli esterni. Fa segno anche se lui è senza palla di metterci a questo punto del coraggio. Locatelli taglia il campo. Cabal. Cabal è entrato centralmente. Cabal serve Cambiaso al limite. Cambiaso non può tirare. Serve con Seisau. Tutti i tennisti in mezzo. Il cross. Il Diz. Lo stop. Goal! Beh, anche questa la azione insistita, bella. È tutta sola. Non vale. Tutta vellutata. Allora, ragazzi, come piace a noi. Ha stravinto il Diz 1, poi Blauvic, poi UEA. E là ce l'ha con Seisau. Gli ho condizionato. Senti, Katia, ma com'è con Seisau dal vivo e veloce? Tratosferico, ragazzi. Impressionante, eh? Stefano, anche tu. Piccolino, ma è veramente... Cioè, la difesa dell'Inter l'ha fatta veramente impazzire tutto il... Poi lo aspettavamo proprio da vedere. Dal primo minuto, poi. Cioè, la prima azione... È stato veramente nascosto nel fianco. Veramente. Cioè, cazzesco. Spettacolare. Cozenzao, come lo chiama Vieri. Cozenzao. 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 Vieri era compagno di squadra del papà, eh. Cioè, l'ha detto ieri sera fino alla zona, l'ho scritto al padre, ha detto... Fantastico. Devo dire con Seisau... Però che sta Juve, a parte, insomma, gli errori tecnici e tattici sono stati tantissimi, ma da ampe due le squadre, eh. Però posso dire che si deve velocizzare questa squadra, ma siamo troppo lenti. È vero che con l'arrivo di Tiago Motto ormai sappiamo tenere il pallone e fare più di due passaggi, ma siamo lenti e di conseguenza ti intercettano subito perché sei prevedibile, perché ancora non... E soprattutto, altra cosa che ho notato, siamo poco... Cioè, nel senso, nessuno si prende realmente l'iniziativa, prende davvero l'iniziativa. Luca, ma sei... Ora, infatti, parliamo a che minuti proviene la Juve. Qualcuno, Luca, ti fa due domande di mercato. Tra poco te le leggo dieci minuti alla fine, vediamo se fare un po' di recupero. Cozenzao, questo è polemico. Cozenzao sta facendo quello che ci aspettavamo da chiesa. Chi è d'accordo? Cozenzao? Sta facendo quello che ci aspettavamo da chiesa. Beh, però... Hanno però caratteristiche diverse, eh. Hanno caratteristiche diverse. È che, insomma, noi tifosi non siamo mai contenti. Poi ci dimentichiamo il chiesa prima infortunio, per tanti motivi. Quello che è stato poi infortunio, insomma, è stato un chiesa diverso. Cioè, secondo me, lui non l'ha mai superato realmente quell'infortunio. Non è mai tornato quello. La paura di farsi male, c'è tutto quello che aveva vissuto. Poi, vabbè, poi ci sono stati anche problemi caratteriali. Insomma, si apriva 10.000, insomma, parentesi. Però non dobbiamo dimenticarci del chiesa iniziale. Chiesa, secondo me, è un giocatore che può fare la differenza. Adesso... Ah, certo, il miglior chiesa. No, no, il miglior chiesa, ragazzi, è fenomenale. Luca, ti chiedo questo, però prima te lo volevo chiedere. È la domanda più banale che sono fatte tutti. Tu hai già risposto con la risposta di Motta. Danilo, in costruzione, quello che è. Luca, perché non giochi, ragazzi? Un minuto di recupero lo dovremmo dare a questi. Rimettiamo i gol, rimettiamo le esultate. Esatto, non so, è una domanda più banale, tra l'altro, del weekend. Chiedo a te se ti sei fatto un'idea tra notizie, idee, impressioni. Penso che lui non si senta a posto. Probabilmente è stato sollecitato a andare oltre, a continuare. Lui... Sono anche due settimane in cui magari è un po' disconnesso e Tiago, tra l'altro, quando Gatti entra non prende la fascia, da Danilo. È vero. Vallo Catello. Quella spiegazione. Vallo Catello. Cosa vuoi dire? No, dico. Quindi si riparte. Perché adesso serve di nuovo il cuore, Pede. Serve di nuovo il cuore. Ok, come l'avete visto? Quello scambio non so se Katia e Stefano non l'hanno potuto rivedere in tv o l'hanno visto bene dal campo. Quando Motta prende sia Q-Ram che Gatti che stanno entrando, fa il segno del cuore. Gatti sembra quasi reagire, arrabbiato. Qui lo dice, ma ti sto parlando. No, non capito. Oggi l'ho chiesto a Mister Campagna. Lui ha detto scene normalissime, che vanno benissimo, solo per caricarle. A me ha dato invece l'impressione che in qualche salotto televisivo si volesse trovare un argomento per fare un punticino di Sherry in più. Poi, per carità. Anche perché poi oggi mi sembra di aver visto qualche fotogramma, qualche cosa di Gatti e Motta abbracciati in allenamento. Cioè, quindi tutta questa cosa. Quelle scene lì chiaramente sono le cose più condivise tra noi tifosi che ti gasano. Quindi le mandi, le salvi, fai le gif. Cioè, io invece volevo chiedere una cosa a tutti quanti. Vai. Dico una stupidaggine. La scelta di Danilo, sia con lo Stoccard e magari anche oggi, può essere anche un po' legata al fatto che magari Tiago, da una parte, provare a ricoinvolgere Danilo per tanti motivi, ma anche per dare un pizzico di personalità che abbiamo perso con Bremer. Perché Bremer, al di là della parte tecnica, secondo me stava diventando anche uno che faceva giocare bene Calulu, Gatti, personalità. Cioè, trovarti Bremer lì davanti. Danilo, forse essendo il più anziano, il più esperto, il più vincente di questo gruppo giovane, può essere o sto dicendo? Però vi racconto questo, non sulla Juve, ma in generale nella vita del calcio. I giocatori, a prescindere dal rispetto per la carriera di un giocatore o per lo status capitano, per il fatto di essere, i compagni sanno benissimo, non parlo di Danilo in generale, quando un giocatore con cui stai giocando è affidabile, non è affidabile, sta davvero bene, gioca perché sta venendo fuori o gioca perché il mister magari ci crede metà e metà pure lui, però qualcosa bisogna fare, anche perché il test sul ragazzo è giunto l'ultima volta che ha parlato, ha detto adesso testiamo i difensori e poi andiamo sul mercato. Ci faremo un'idea e poi da lì capiremo che tipo di difensore andiamo a fare, non se andiamo a fare un difensore. Però i compagni annusano le difficoltà in campo, ma prima ancora che inizi la partita. Purtroppo la sensazione che ho, ma ripeto, non è una notizia, è una stupidata, però la mia sensazione è quando leggo Danilo è come Alexandro. Magari Danilo non è come Alexandro perché fa gli errori, che poi ha anche il giusto saluto allo stadio, incredibile, nessuno l'ha avuto come lui bene, ma il problema non è in lui, perché è anche in lui, noi ci concentriamo, ma è nella catena di effetti di chi l'ha intorno. Kalulu non è tranquillo se lo cassa Danilo, poi non lo ammetterà mai neanche a se stesso, è repressa questa cosa, ma è così. Inizia a fare delle cose, quando Bremer giocava con Alexandro, giocava male pure Bremer, ma ve lo ricordate perché, ai nostri occhi di umili umani, perché nella sua testa si andava a coprire un po' in anticipo, perché non sei tranquillo e poi sei fuori posizione, cerchi di difendere tra virgolette per due, e questo crea un effetto negativo anche sugli altri. Quindi il problema in questo momento è che Danilo, secondo me, non è percepito dai compagni come affidabili. E questo crea un problema che diventa esponenziale, perché poi Danilo si offrirà di cercare di fare delle grandi partite, non ci riesce, ma anche quando lui, cioè tutti si rendono conto di questo. Luca è l'Alexandro di quest'anno? Nel senso che stavo spiegando, mi sembra che la china sia assolutamente questa. Il problema non è gioca Danilo, ma la squadra è preoccupata di gioca Danilo. Faccio un attimo, un secondo di pausa. A parte mi chiedevano, mi richiameranno a Pressing dopo aver detto del giocatorone, il Diz, non lo so, non è che mi chiamino con una frequenza. Il giocatorino. Eh beh, il giocatorino. Io ho detto subito, ho detto il giocatorone il Diz e subito è partito un po' di cose. Poi dici perché ti chiamano una volta in dieci puntate. Allora poi, vabbè, parliamo di mercato. Luca, questo te lo devo chiedere. C'è qualche piccola novità? Te lo chiedo solo, ovviamente siamo a ottobre. Luca, i messaggi li metto in evidenza io. Cioè, ogni lunedì c'è questa cosa. Cosa sta facendo Zampini? Stai smontando la sua postazione. Luca, hai visto il bel microfono? Hai visto, Cate, il bel microfono intanto. Professionale? Zampini, io il 16 vengo, ma aspetto il libro che non mi è ancora arrivato. Ma quello è incredibile, ma quella è la casa editrice. Io gli ho dato gli elenchi, ho pure chiesto l'indirizzo e tutto. E dove mi è arrivato, quindi ricordatelo, mettitelo in borsa. Però, allora facciamo così, uno ok, però uno lo compri e lo regali a tuo padre. Ok. Giusto, questo è l'accordo, deal, deal. Allora, ragazzi, vabbè, parliamo di mercato, Luca, scherzi a parte, c'è qualche piccola notizia. Un minuto, dai, il mercato, ragazzi, allora. T'hanno chiesto, Luca, la rosa, domani parla a Tiago. Dopo domani ce ne andiamo in campo, venerdì parla a Tiago, sabato ce ne andiamo in campo, lunedì parla a Tiago, martedì ce ne andiamo in campo, in Champions a Lille. Ragazzi, trovate il giorno, ci dedichiamo al mercato e parliamo del mercato. Un minuto in mercato. Ma perché c'hai notizie, Luca? Ma hai notizie? Mi ha accennato certa roba, ragazzi, Luca. No. No, mica ho detto niente. Dico, mi ha accennato certa roba. Io l'ho chiesto per questo, però farai tu quando vorrai. Allora, ragazzi. Due scenari, direi, piuttosto, piuttosto, con della polpa, sia in attacco che in difesa, che ovviamente... E mi rilasci così. E mi rilasci così. Allora, ragazzi, io direi questo. Quattro minuti di recupero, ho chiamato, perché il Montblano, troppi silenzi, troppi momenti tipo Celentano. Quindi... E' sempre più un recupero di ieri, comunque. Esatto, ieri tre. Anche se il primo tempo, Stefano, non so se anche tu hai avuto questa... Cioè, io volevo che finisse subito. Perché lì non stavamo più capendo niente. Il primo tempo, sì. Va, time up. Però aspettate, primo... Ditevi come l'avete visto allo stadio. Primo tempo, finisce con un tiro di UEA, che esce, penso, di un centimetro... Di un centimetro. Però... Quello è vero, Massimo, ma ti giuro. Cioè, dopo quella serie di errori grossolani, e il gol, cioè, non ci stavano capendo più nulla. Veramente, è come se avessero perso il centro. Infatti, tu mi prego, fate di andare... Poi mettono della musica... Quattro minuti da ora! Quattro minuti da ora! Vai! Quattro minuti da ora! Allora, io voglio andare anche verso Juventus-Parma. Ragazzi, oggi, parlando con Mr. Campagna in trasmissione, mi è venuta un po' di paura. Lui ha detto, questa è una squadra, che essendo giovane e tutto il resto, insomma, così, che alterna momenti di grande coraggio, carattere, come all'Ipsia, come ieri, così, a poi o momenti o partite, o... così, un po' più... boh, o derudenti, o fuori fase, e tutto. Allora lui ha detto, attenzione, perché questo inter-Juvi è stato un dispendio clamoroso di energie psico-fisiche, non solo fisiche, è un'altalena di emozioni da cui esci magari sentendoti imbattibile o al contrario debole dietro. Tra tre giorni c'è il Parma, che corre tantissimo, giovani, niente di irresistibile, ma alcuni giocatori importanti. Vi chiedo, avete... io ho sempre paura, è ovvio, ma chiedo anche voi, avete qualche timore ai contraccolpi, oppure dite, basta, questa squadra parte ora. Il Parma comunque gioca bene, me lo posso dire, che gioca molto bene. E corre. E corre. E non vince da, non so quante partite. ha partito molto bene, ho perso qualche partita immeritatamente. Però ieri ho sbagliato, a Napoli ha perso... Immeritatamente, quella cosa di Napoli l'ha persa, l'hanno fatta perdere quella partita, non mi fate dire cose. Ma anche a Empoli, anche a Empoli ha sbagliato un rigore l'altro giorno a tre minuti alla fine. Luca, tu qua hai qualche timore di contraccolpi o non è questo un timore che hai sulla Juve? No, io no, ho rispetto, ho rispetto del Parma e ho assolutamente negli occhi una incapacità, diciamo, trasversale della squadra di riuscire a sfruttare lo stadio in questo momento. Ma non è colpa dello stadio, me lo dico. Perché io ho potuto, l'ho fatto apposta ad un certo punto Juve Cagliari, neanche Juve Lazio, Juve Cagliari che era a mezzogiorno, mi sono aperto l'audio mentre facevo la cronaca, una cosa che non faccio quasi mai, mi sono aperto l'audio perché dentro di me a un certo punto a metà del secondo tempo lo stadio c'era, lo stadio c'era, sia nelle inquadrature che però possono anche ingannarti, ma anche... e quindi in questo momento sono più preoccupato di gettare via questi due punti di San Siro perché nel momento in cui dovessi non vincere col Parma torna a essere uno stupido punto dove c'è stato un lampo d'orgoglio, un simillipsia che mai più si ripeterà davvero o va bene così, negli anni sfigati ti porti dietro alcune grandi cose che hai fatto contro alcune big perché poi è successo anche in passato. Ecco, invece i tre punti col Parma non a livello matematico ma a livello di accelerazione per la squadra di crescita farebbero valere doppio questo pareggio, cioè lo prendi più pieno, tu devi completare l'opera vincendo tra virgolette banalmente che non è banale in casa col Parma. Ovviamente siamo scottati. Luca non torna nessuno, vero? devi vincere, ma nessuno. non sono preoccupato dalla squadra. Dalla Juve, dici? Dalla Juve, non sono preoccupato che la Juve adesso si monta la testa, la Juve, guardate, l'avete visto Tiago nel dopogara? Lui che è sempre col sorrisino stampato, sempre, no, non c'era il sorrisino stampato, non credo che oggi la squadra ha fatto piscina, palestrina, ma si è presa anche il discorsone, alcune cose molto chiaro. Tiago l'avrà rivista sette volte, non due, perché ci sono delle cose che ovviamente attraverso cui si passa per crescere, ma poi bisogna, con rispetto anche che è un avversario forte è tutto, ma non mettiamoci anche del nostro. E non mi riferisco solo ai due rigori ingenui. a me la sensazione che a volte in alcune partite, in alcuni comunque momenti della partita, fanno fatica a prendere l'iniziativa, cioè fanno il compitino e poi come se gli manca quel qualcosa però poi c'è un momento. Esatto, però sono spostanti, cioè o lo fa a momenti, è quello che ti sto dicendo, e quindi questo no ti dà certezze, perché significa che può succedere sempre tutto in qualsiasi momento. Allora, non rientra nessuno, forse neanche un ludinese, te lo diciamo subito così, vediamo, c'è lì il poi martedì, poi c'è il derby, insomma in qualcuna di queste torneranno, speriamo però, non mercoledì, io direi, giochiamo un secondo, proviamo, azzardiamo le scelte fondamentali di formazione e per chiudere voglio il commento del papà di Katia e del figlio di Stefano a fine partita, usciti da San Siro, voglio chiuderla così, però si aspetta, questo alla fine, un secondo sulla formazione, giochiamo, Di Gregorio, oggi l'abbiamo fatto anche con Giovanni Albanese, io direi, Di Gregorio, lui immaginava un turno di riposo per Caluno, mettendo Gatti e Danilo al centro, dice prima, poi riposerà, anche lui, metteva Savona a destra, metteva Cambiaso a sinistra, vi informo, vedo Luca che scuote la testa, ma cosa dici? Mi prendo a testa del muro più che scuote la testa. Ma cosa dici Giovanni Albanese? Cosa dici? Luca sta dicendo Giovanni? E poi a centrocampo immaginava, mi sembra Thuram e forse Locatelli, non mi ricordo chi, e davanti, lui ipotizzava anche forse un turno di riposo per Vlaovic, prima o poi. Ma no, Luca Sintra. Grazie. Non adesso, non tre giorni dopo questa roba qui, in casa, col Parma e i punti lasciati alle provinciali fin qui. Non adesso. Poi per Udine, sabato, vediamo, lì lo vediamo. Non adesso i tre capisaldi, no, ma non perché sono io credo che debba esistere una Juve senza Vlaovic in qualche modo, no? Adesso prova uno, prova l'altro, ma non è questo il momento. Questo è il momento dove... Per me è molto più bravo di Di Gregorio, cioè non ho scoperto l'acqua calda, è giusto che insomma gli fanno fare il suo percorso, ma Perin è molto più affidabile. poi è giusto che Di Gregorio fa il suo... Però non sottovalutiamo Perin. No, no, io amo Perin, però Di Gregorio mi piace, mi piace, e mi piace soprattutto, l'ho chiesto anche al mister oggi, mi piace soprattutto, io non sono un grande fan della competizione, cioè quando martedì Perin fa quella partita Douglas secondo me domani Tiago potrebbe anche dirci che c'è, vediamo. Ah sì, ci sono potenzioni. Perché Douglas giustamente ieri in studio i lapsus e i Uantini, il grande direttore, conduttore, a un certo punto dice ragazzi ma quando mi elencate questi qua, Douglas non me li ha elencate mai, l'avete già rimosso tutti, è la verità. Nessuno... Ha detto misterioso. Sì, però non viene in mente, dai che magari torna Douglas se non mercoledì, ma insomma, uno che torna c'è, non è venuto in mente nessuno. servirebbe a dirlo. Neanche a Stefano Goitra è venuto in mente Douglas lui, sono preoccupato. Stefano Goitra, che ha detto tuo figlio mentre usciva? Non lo posso ripetere perché ha incontrato uno dei nostri che ha detto vieni qua, vieni qua, vedi quelli, sono dei... E ha cominciato, quindi lui era casatissimo, quindi bello, una bella educazione, una bella serata è uscito con dei valori giusti, però non lo posso ripetere. Però ci siamo fatti la passeggiata e come diceva Katia è andata bene così perché ci siamo permessi anche di fermarci, fare due foto, fare due ridacchiate senza aver paura e comunque si sono viste tanti tifosi anche insieme dell'Inter e della Juve, quindi comunque... Delle immagini televisive molto spesso, devo dire questo molto bello, lo diciamo, insomma, che sia Milano o Torino, comunque queste cose si vedono, forse... Questo ci piace, questo ci piace molto, dobbiamo dirlo, hai fatto bene a dirlo, lo vedevamo anche dalla tv. Katia, e cosa ha detto tuo padre? No, devo dire che alla fine è stata un'esperienza per lui positiva ed emozionante perché quando la Juve è andata sotto di due gol, mio papà, a parte che stava moreno, ma veramente ragazzi, ha detto, io non posso tornare a casa con questa brutta figura e confrontarmi con i miei amici, cioè, in qualche modo adesso la faccia... Sì, sì, no, no, era veramente molto contento perché al di là di tutto torniamo sempre alla frase iniziale dello spettacolare, cioè, è stata una partita importante che ha regalato tante emozioni, però a bocce ferme dici spettacolare perché poi la Juve ha rimontato ed è stato tutto molto bello, però sullo spettacolare, ragazzi, quando la vivi sulla tua pelle, no, no, comunque molto, molto, molto contenta e soddisfatta. È una partita che ti ricorderai, eh, cioè, per una serie... Eh beh, eh beh, ragazzi. Quindi se considerate la sua prima volta a San Siro in una partita comunque così importante con tutto quello che è successo e alla fine te ne vai via da San Siro con un punto importante. Poi, come diceva Luca, devi dare a questo buco un valore superiore vincendo col Parma, se no è fatto un buco nell'acqua. Ah, no, no, ma questo, secondo me, il rischio, ve lo dico, il rischio però della stagione, secondo me, lo dico prima. tra Inter e Juve chi ha voluto di più? Beh, ieri? Gli interisti sono a pezzi, gli interisti sono a pezzi e gli juventini... perché la fortuna che al momento ha Conte è veramente... Ah, tu già pensavo tra Inter e Juve dicevo ieri impressionante comunque è impressionante e devo dire che potremmo anche farci una riflessione negativa volendo sull'entusiasmo degli juventini e la tristezza e l'interisti dopo un pari però per come è maturato è sacrosale. Tu considera che noi l'abbiamo rimontata è normale che poi la fine è davvero arrivato felice ed è anche rischiato per loro di vincere di portartela ma hai pareggiato hai pareggiato con tutto il rispetto Bangula Savona eccetera eccetera hai pareggiato là riprendendoli è una cosa è chiaro che siamo più contenti noi ragazzi miei Katia il piacere di averti rivisto della chat della community saluto tutti torni a trovarci? sì assolutamente no però non mi vuoi invitare mi faccio invitare da Luca è vero è anche all'Eventibus non ti voglio invitare quindi vedrà Luca se dirtelo vedrà Luca 13 novembre ragazzi Stefano Goit Katia Nicotra Luca Momblano e io ci saremo grazie a tutti ciao a tutti ragazzi forza Juve stasera Juventibus domani alle 12 di là la rassegna sarò io con Just alle 2 Luca di qua più live con Massimo e Luca insieme eh questo siamo pigri forse quando sappiamo che c'è l'altro uno dice bella allora esco ciao a tutti ragazzi forza Juve ciao grazie